Ecco, ecco, professore, professore, non sei capace, non, non sono capace, non sono capace, mi dia una mano, silenzio, basta, via, via, non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga caro, venga, la porta al suo reparto, venga, 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 adesso venga in camera, ecco, ma guardi che lavoreremo bene, Sì, lo so, ma io oggi ho un'attività, venga, no, la prego, mi lasci sopra, mi lasci sopra, e non faccio forte, sremmi, venga, conosco, scusi che stai, ma che fa l'ai, sado, ma è impossibile, sorella, es alright, e dove, dove, dove lo volessi?